Professore Cambiano, dopo l'esperienza da sindaco di Licata, adesso la candidatura all'Assemblea regionale siciliana. Intanto quali sono le sue aspettative e qual è il suo stato d'animo? Beh, io lavoro con tanto impegno al servizio del territorio perché la politica deve essere un servizio. Dopo l'esperienza amministrativa che ha portato con sé alcuni strascichi importanti anche per me e per la mia famiglia, devo dire che non si è affievolita la passione per la buona politica. Quindi credo che sia doveroso impegnarsi e dare una speranza a territori che purtroppo sono abbandonati da decenni e che ripongono nella buona politica tanta aspettativa. Il Movimento 5 Stelle che si presenta alle elezioni regionali di quest'anno, che movimento è rispetto a cinque anni fa? Io credo che siano cambiate un po' di cose. Sono stati commessi diversi errori, ma nello stesso tempo sono state portate a casa misure importanti. Probabilmente quello che viene rimproverato a livello territoriale è lo scollamento dai territori, la mancata vicinanza ai problemi dei cittadini. La politica deve essere sentita vicina e deve rispondere ad esigenze collettive, non solo ad esigenze individuali. Purtroppo i nostri territori pagano lo scotto di decenni di abbandono e io ad esempio risultai al centro di una vicenda riguardante l'abusivismo edilizio, ma per decenni di abbandono dei territori e della mancata assunzione di responsabilità da parte dei politici. Rispetto delle regole credo che si passa da lì per sviluppare opportunità nei territori e non continuarli ad impoverire con un'emigrazione giovanile importante e forse tra le più imponenti negli ultimi anni nell'intero territorio del sud Italia. Lei è stato il sindaco simbolo della lotta all'abusivismo. Che cosa le lascia quella esperienza finita forse in un modo che lei non immaginava? Mio malgrado mi sono, come dicevo, saltato agli onori della cronaca anche nazionale per aver fatto semplicemente il mio dovere. ed è assurdo aver avuto tante attenzioni, lo dico in maniera ironica, due case incendiate, ho vissuto tre anni sotto scorta per aver fatto solo il mio dovere. Probabilmente ho pagato il conto che avrebbe dovuto pagare qualcun altro con una corresponsabilità di politici e istituzioni compiacenti. È un fenomeno complesso e ovviamente non si può liquidare con una battuta, ma di certo è il frutto dell'abbandono dei territori e della mancanza di visione e di progettualità. Questo deve essere la politica. Progettualità per migliorare la qualità di vita dei cittadini.